Quella dell'omicidio di Jennifer Sterlecchini è una vicenda che sembra destinata a non chiudersi mai. Ieri infatti è stato aperto un altro capitolo della vicenda giudiziaria relativa all'omicidio della 26enne pescarese uccisa con 17 coltellate la mattina del 2 dicembre del 2016 dal suo ex fidanzato Davide Troilo, ascensorista pescarese di 36 anni. La prima sezione penale della Cassazione infatti ieri ha annullato con rinvio in relazione all'aggravante dei futili motivi la sentenza di condanna a 30 anni di carcere a carico dell'omicidio. I giudici romani hanno annullato la sentenza rinviando il caso innanzi la Corte d'Appello di Perugia. Il PG Mario Pinelli aveva invece chiesto la conferma della pena. L'assassino di Jennifer il 24 gennaio del 2018 era stato condannato con rito abbreviato dal giudice per l'udienza preliminare Nicola Colantonio a 30 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato dai futili motivi, condanna poi confermata il 14 marzo del 2019 dalla Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila. Nel ricorso la difesa ha posto all'attenzione della Suprema Corte tre questioni, ossia l'insussistenza dell'aggravante dei futili motivi, la mancata concessione delle attuenanti generiche e il mancato accoglimento della richiesta di una nuova perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere di Troilo. In particolare l'avvocato De Marco, nel suo ricorso, ha puntato l'attenzione sull'insussistenza giuridica dell'aggravante dei futili motivi, sostenendo che nella sentenza il GUP ha cambiato il fatto storico a fondamento dell'aggravante. Nell'imputazione infatti si contesta a Troilo di aver ucciso Jennifer Sterlecchini per non aver sopportato la fine della loro relazione sentimentale, mentre nella sentenza il movente viene individuato nella mancata restituzione di un tablet. Dunque la modifica del movente, secondo l'avvocato, avrebbe portato alla violazione del diritto di difesa, sancito anche dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. I familiari di Jennifer Sterlecchini sperano nella riconferma della condanna e dichiarano di aspettarsi semplicemente giustizia. Ora non resta che attendere la decisione della Corte d'Appello di Perugia.